Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che sta trascorrendo una splendida giornata Con la qualificazione al Mondiale Under 20, ormai cosa fatta, e in attesa di conoscere il povero rivale per l'Europeo Under 19, ovviamente in semifinale l'Italia è stata sonoramente sconfitta per 4 a 1 dalla Francia però un po' di spunti interessanti ci sono stati ed occorre fare qualche riflessione Prima però di andare nella nostra questione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche, rimane sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare Inoltre qui sotto all'info box trovate il link al mio gruppo Telegram dove si parla di calcio senza colori di bandiera né di maglia quindi mi raccomando passate a trovare il sottoscritto e la mia community Ieri appunto sconfitta per 4 a 1, comunque tecnicamente ininfluente ai fini appunto della qualificazione in semifinale però Nicolato appunto ha fatto un po' rifiata ai titolari e ha schierato una formazione rinnovata se non erro per i 9 o i 10 undicesimi Un'Italia che si è schierata appunto con il classico 4-3-1-2 con Zacchia in porta, Turicchia, Stivanello, Coppola e Fontanosa sulla indifensiva poi Terraciano, Dell'Innocenti e Fazzina a centrocampo, Baldanzi dietro l'attaccante tipico Volpato e il solito Ambrosino Un'Italia che non è neanche partita male, è partita col giusto piglio, col giusto ritmo, bella aggressiva, corta sul campo agredeva il portatore di palla, chiudeva le linee di passaggio però non ha saputo sfruttare il dovuto insomma alle occasioni avute infatti va in vantaggio con Volpato con una bella azione, un grandissimo assist del mio pupillo Giuseppe Ambrosino ma dal pareggio della Francia, venuto al 24esimo con un bellissimo gol di da Silva in poi l'Italia si è un po' persa, si è un po' sciolta e ha dato modo alla Francia, grazie alla sua potenza tecnica e la sua potenza fisica di ribaltare totalmente il risultato molti errori individuali, perché infatti poi dal pareggio in poi poi tanti giocatori hanno commesso errori in uscita del pallore ad esempio, o magari con passaggi orizzontali il secondo gol della Francia, il secondo gol di Chuany la Zacchi fa un errore di passaggio che mette in difficoltà tutta la linea difensiva quindi sì, non hanno coperto su da Silva non hanno accorciato su da Silva che è stato colui che ha servito appunto l'assist a Chuany però c'è il discorso che quel passaggio di Zacchi ha preso totalmente in contropiede un po' tutta quanta la difesa quindi non si può imputare ai difensori centrali, ai centrocampisti non aver accorciato su da Silva però al di là della sconfitta c'è un dato importante, o meglio c'è una domanda molto importante a porsi perché la Francia ha avuto vita così, tra virgolette, facile una volta recuperato il vantaggio il risultato, scusate perché ragazzi, questi giocano cioè, pensiamo soltanto vi faccio un esempio Camara, il difensore centrale quel bestione al Paris FC che è in Serie B francese, quindi la Ligue 2 ha giocato 37 partite da titolare e non è l'unico Bondo, ad esempio un giocatore che ha giocato in maniera spettacolare un giocatore che già tempo fa era accostato al Milan lui ad esempio ha giocato molto con il Monaco al 19, un Monaco ben, non mi ricordo però ha giocato molto ma come lui, anche altri se non hanno giocato 30, 35 partite ne hanno giocate 10, 15, 7 rari i casi che hanno giocato meno di 5, 6 partite in 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 vegan noi invece ragazzi che abbiamo ma che abbiamo Coppola che un 2003 della Sverona ormai inserito l'anno scorso a Tudor in prima squadra speriamo che c'ho uffici punti ma ha visto pochissimo al campo poi Baldanzi l'ultima giornata degli innocenti granditamente l'Empoli ma Ambrosino ragazzi Ambrosino Ambrosino io dico ma Napoli ha perso Insigne e va bene va bene ma perché concentrarsi su Deulofeu e spendere 18, 20 milioni di euro non dico che Ambrosino sia potrebbe potrebbe essere insomma il sostituto di Insigne ad ora ma buttiamolo dentro puntiamoci sul ragazzo perché vale da attaccante punta centrale intendo da esterno e da diciamo trequartista meglio come esterno sono trequarti ma anche come se non è un attacco a tre è un giocatore che c'ha bisogno di gioco che c'ha voglia che c'ha intelligenza è pronto e facciamo un errore a dire ma è giovane ragazzi ha 19 anni si è giovane ma teniamo conto che la carina di un calciatore non dura 34 anni a 19 anni c'è gente che aveva già ben conquistato la titolarità del Piero a 20 anni ha messo in discussione Baggio Totti a 67 anni è tutto con la Roma non so se Nesta ha 18 anni se non erro è la titolare nella Nazio di Zeeman e adesso mi si deve dire che Ambrosino non può fare un se mi ti doverà a Napoli a 19 anni è perché non si chiama Ambrosigno e qui io torno sempre sul stesso discorso perché non si chiama Ambrosigno o Ambrososchi allora è è Ambrosino vabbè così d'accordo era una battuta però in un commento sotto i miei video non mi ricordo chi ha scritto e vabbè ma con quel cognome perché cacà in Italia significa tutt'altro che il diminutivo di Riccardo quindi il discorso è questo dobbiamo fare giocare i giovani e il il problema di ieri contro la Francia era che in attacco avevamo un Ambrosino che non ha mai visto il campo in A un Volpato che dopo il gol non mi ricordo anche contro chi in Serie A dopo l'esordio il campo è nel dimenticatoio un Baldanzi fresco di esordio ottima prestazione anche di degli innocenti e vi dico un onestamente preferisco anche degli innocenti affaticanti un po' più di geometria velocità di pensiero Coppola anche un ottimo difensore centrale deve crescere perché a volte ieri avrebbe potuto intervenire è stato un po' troppo indietro a volte si è fatto un po' troppo attirare dalla palla piuttosto che seguire anche con la visuale periferica anche l'avversario però come si eliminano questi difetti giocando mettendo questi giovani alla prova e non lasciarli marcire in panchine serie A oppure nei campionati primavera che sono partite di ragazzini oppure assimilabili a scapoli ammogliati perché il livello probante è zero e benvengano le squadre B o Under 23 benvengano e io spero che sempre di più oltre a Juventus di squadre investano sul progetto perché voi pensate che un Filippo Dellicarri qualunque per quanto io conosco il ragazzo ed è un ragazzo valido avrebbe mai giocato in serie C se fosse rimasto non lo so al Pescara o o in altre realtà o cominciava magari con i vari prestiti B C D interregionale invece per Delicarri si parla già del Como classe 99 nel suo piccolo Juventus Under 23 ha contribuito e non solo per lui quindi benveno le squadre Under 23 e facciamo giocare i giovani perché dopo verremo sconfitti dal nazionale Under 19 o Under 20 o Under 21 X soltanto perché i loro giocatori giocano di più dei nostri quindi togliamo i dati la laftalina e torniamo alla filosofia del Manchester United di Ferguson quando vi fu la generazione dei nati dal 73 75 Geeks Beckham Scholes Nicky Butt Gary Neville Finn Neville se mi scordo qualcuno fatemi sapere qui sotto nei commenti spero che vi sia piaciuto in tal caso se non vi like il video iscrivetevi al canale attivate la campellina e passatemi a trovare sul gruppo Telegram vi mando al bracione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi